Sole, gioco e divertimento. L'Aurora Induna ha vinto la sfida e ha aperto i battenti con il suo camp estivo. La voglia di tornare in campo ha superato gli ostacoli che i protocolli di sicurezza per l'emergenza Covid stanno mettendo tutti a dura prova. E nel primo giorno di apertura sul Manto Verde del centro sportivo di Induno-Lona c'è già il pieno di piccoli e ragazzi. Tutti meno vicini, certo, ma non meno contenti. Oggi partenza abbiamo avuto 65 bambini che non sono la nostra massima capacità. Abbiamo nove gruppi, ci sono due gruppi di piccolini che con le proprie maestre svolgono l'attività sopra nel centro, là in cima. E poi abbiamo altri sette gruppi che sono qua sempre sul campo verde e ogni istruttore svolge le proprie attività giornaliere. Il primo giorno di questo camp estivo è una grande soddisfazione partire in mezzo anche a tante difficoltà. Grande soddisfazione partire, meno male, partire, questo è l'essenziale. Una bella giornata un po' ventosa che ci ha portato un po' di scombusolamento per quanto riguarda l'organizzazione. Meno male che vedo i ragazzi calpestare ancora il prato del campo dell'Aurola che è da quattro mesi che siamo proprio fermi, fermi. Quindi meno male. Io ho visto l'entrata di qualche bambino, era talmente felice perché non vedeva l'ora di ritrovare i suoi amici e di giocare. Perché stando in casa per loro soffrono molto, quindi è una grande soddisfazione. Io stamattina sono venuto proprio su verso le 8 per vedere l'entrata, anche per vedere come si svolgeva. Perché con queste norme sanitarie, questi protocolli rigidi, bisogna stare un po' attenti anche con i bambini. Però molto soddisfatti. Molto soddisfatti.